Allora, partiamo da Piumicino, si Piumicino è da Forza di Roma per quello che riguarda ovviamente il sistema aeroportuale e non solo, vista le prospettive ecogelistiche che abbiamo ascoltato di recente e quindi l'ospedale di Lugia è quella tradizionale, non è un ospedale destinato a trattare abusi e sono un ospedale con più intensità, con meno intensità dura per soggetti, per soggetti fragili, quella è un intervento di etnomi. Abbiamo trovato, comunque c'è un dialogo con il sindaco e la nuova amministrazione ovviamente per ragionare per il potenziamento della risposta, noi oggi abbiamo preso i progetti che noi abbiamo già trovato, le richieste, quando io ho parlato appunto degli investimenti da qua al fine anno sicuramente Piumicino che ha un bacino di testo di 80.000 abbinati in valore a memoria più o meno, non possiamo pensare che rimanga come disposta ai suoi bisogni così come è configurato nella situazione attuale. Piumicino è un centro psicocratici territori, Piumicino è sicuramente una di quelle realtà in cui c'è necessità del potenziamento. e quanto riguarda l'unvecchio...